E guardiamo con fiducia l'otto di novembre, guardiamo con fiducia per due ragioni. La prima perché senza iattanza, senza arroganza, senza presunzione, siamo però consapevoli di quel che abbiamo fatto in questi cinque anni. Questa città noi l'abbiamo governata, l'abbiamo guidata, l'abbiamo presa in mano nel 2011 e l'abbiamo dovuta guidare negli anni più duri della crisi che dal 2007 attanaglia l'Europa, l'Italia e anche la nostra città. L'abbiamo governata, l'abbiamo guidata in una fase nella quale abbiamo dovuto fare incontri ogni giorno con le tante criticità che la crisi economica e sociale esaltava. non ci siamo tirati indietro mai e abbiamo avuto la capacità di guidare la città in una condizione di difficoltà mantenendo alla città il suo dinamismo, il suo smalto, la sua capacità di parlare al futuro. Ho detto molte volte, lo ripeto anche qui, la crisi in cui c'è stata ed è stata dura, ma la crisi non ha piegato questa città. Torino al termine di questi cinque anni esce forte, non esce come una città umiliata o piegata dalla crisi.